Ecco fatto! Quindi i film e i programmi lo ricordo io a Zionico. Sto ricordando tutto a Gabriele il cartone. Sì, questo è. Sì, questo è Alla ricerca di Nemo. Sì, questo è. Sì, Marlin, ho visto, è bellissimo. Allora, Cora, quando hai detto che volevi la vista sull'oceano, non credevi che avresti avuto l'intero oceano, vero? Sì, questo è. Sì, un pesce sì che può respirare. Tuo marito ti ha accontentata, sì o no? Mi ha accontentata. E non è stato facile. Perché altri pesci bagliaccio facevano la fila per questo posto. Ci puoi scommettere, cara? Lo volevano tutti, sai? Sei stato bravo. E il quartiere è stupendo. Solo quest'anno sta qua. Il cartone sta qua. No, 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 mi piace, mi piace, certo che mi piace, come no? Però, Marlin, so che questa è una zona prestigiosa, con ottime scuole, una vista mozzafiato, ma abbiamo davvero bisogno di tanto spazio. No, le nostre figlie che stiamo parlando si meritano il meglio. Guarda, guarda. Si sveglieranno e aprendo gli occhi vedranno una palena a ruotare davanti alla finestra. Ma scarica Dan, Jimmy, attacco. Ah, guarda. Sogna. La prossima volta a Pavucci non lo sto scaricando. Chiameremo questa metà Marlin Junior e quest'altra metà Coral Junior. Ecco fatto. A me piacerebbe Nemo. Nemo? Va bene, uno lo chiameremo Nemo, ma gli altri vorrei chiamarli Marlin Junior. Ma ci pensi ancora un paio di giorni e saremo genitori. Già. E se loro io non piacessi? Marlin. No, davvero. Ci sono più di 400 uova, ad almeno uno di loro dovrebbe il piacere. Quindi, firma i programmi e questo te lo fa Kekko. Che c'è? Ricordi il nostro primo incontro? Cerco di dimenticarlo. Ah, io me lo ricordo. Mi scusi, Soprima. Mi controlla se ho un amico nell'ampo? Devi guardare più da vicino perché non sento lì. Eccolo qui, il tuo tesoro. Sì, questo è. Dove sono andati gli altri? Sì. Corra, rientra in casa, corra. L'anno prossimo passa a tutti. Sono sicuro, rientra e basta, rientra su. Un anno fa passa a tutti. Ok, stacco.